Accademia italiana di lingua. Diploma intermedio di lingua italiana Firenze. Livello intermedio B1. Comprensione auditiva. Intervista. Ascolterà una breve intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 42 al numero 47. Sentirà l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga, fra le alternative A, B, C, D a disposizione, quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. La musica, per me, è la mia anima. Pietro Dottavio intervista Carmen Consoli, una delle voci più interessanti della musica rock italiana. Carmen Consoli è oggi impegnata su tutti i fronti. Ha presentato il DVD Eva contro Eva al Festival di Tavolara. Sta scrivendo la colonna sonora del nuovo film di Maria Sole Tognazzi. Ha esplorato i territori della musica etnica. Ha suonato molto all'estero e sta per tornare negli Stati Uniti. È il momento giusto per fare un ritratto dell'artista che ha mosso i primi passi tra Catania e Roma. Quali sono i tuoi ricordi di Roma? Ricordo Roma come la città del mio sogno, dove volevo trasferirmi. E a 18 anni, appena diplomata, lasciai Catania per iscrivermi all'università. Ma invece di trovare musicisti romani con cui suonare, mi capitavano quasi sempre catanesi trasferiti come me. Le mie canzoni sono nate sotto il Colosseo, per poi svilupparsi ai piedi dell'Etna. Infatti, dopo due anni passati a Roma, sono tornata in Sicilia. In quel periodo, Catania era un vero grande laboratorio per la musica, dove si sperimentava moltissimo. Sei un artista che si mette in gioco con una continua ricerca. Come riesci a conciliare tante differenti fonti di ispirazione? Come per tutte le passioni, anche per la musica, si deve rinunciare a qualcosa. In questo caso, a volte, ha la certezza di avere un brano in classifica. Non si può essere schiavi delle esigenze commerciali, altrimenti finirebbe la mia voglia di giocare con i colori della musica. La musica per me è lo specchio, la mia anima, il corpo che mi piace vestire. Godo la diversità della musica che considero tutta bella. Hai collaborato con moltissimi artisti, Gazzè, Turci, Pregovic, Celentano. L'unione di diverse teste è fondamentale per evolversi. Sento il bisogno di confrontarmi con idee diverse dalle mie. Mi piace fare lunghe chiacchierate. Sono un animale sociale, figlia del Sud, con le case aperte e sempre piene di gente. A proposito di collaborazioni, ora stai scrivendo la colonna sonora del nuovo film con Maria Sole Tognazzi. È un'esperienza bellissima, perché Maria Sole è una mia carissima amica. E in un certo senso stiamo lavorando insieme. Io sto scrivendo le musiche del film, ma ci scambiamo spunti e idee. Tu sei ambasciatrice dell'UNICEF e hai partecipato a molte iniziative umanitarie. È previsto un nuovo viaggio in Africa? Sì, stiamo ragionando con gli amici dell'UNICEF per mettere in piedi una nuova iniziativa. Dobbiamo solo capire qual è la destinazione più giusta in questo momento. Come viene recepita la musica italiana a New York, dove hai suonato invitata ad un festival? Benissimo! Se portiamo qualcosa che non c'è, più siamo autentici e legati al nostro territorio e più siamo apprezzati. Al contrario, se portiamo il rock senza nessuna contaminazione, non c'è confronto con chi lo ha inventato. D'altronde, se viene un americano da noi, non ci aspettiamo che suoni canzoni napoletane. E hai già in programma una nuova serie di concerti in America? Sì, tra qualche settimana. Adesso legga le affermazioni. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. di trovare musicisti romani con cui suonare, mi capitavano quasi sempre catanesi trasferiti come me. Le mie canzoni sono nate sotto il Colosseo per poi svilupparsi ai piedi dell'Etna. Infatti, dopo due anni passati a Roma, sono tornata in Sicilia. In quel periodo Catania era un vero grande laboratorio per la musica, dove si sperimentava moltissimo. Sei un artista che si mette in gioco con una continua ricerca. Come riesci a conciliare tante differenti fonti di ispirazione? Come per tutte le passioni, anche per la musica, si deve rinunciare a qualcosa. In questo caso, a volte, ha la certezza di avere un brano in classifica. Non si può essere schiavi delle esigenze commerciali, altrimenti finirebbe la mia voglia di giocare con i colori della musica. La musica per me è lo specchio, la mia anima, il corpo che mi piace vestire. Godo la diversità della musica che considero tutta bella. Hai collaborato con moltissimi artisti, Gazzè, Turci, Pregovic, Celentano. L'unione di diverse teste è fondamentale per evolversi. Sento il bisogno di confrontarmi con idee diverse dalle mie. Mi piace fare lunghe chiacchierate. Sono un animale sociale, figlia del sud, con le case aperte e sempre piene di gente. A proposito di collaborazioni, ora stai scrivendo la colonna sonora del nuovo film con Maria Sole Tognazzi. È un'esperienza bellissima, perché Maria Sole è una mia carissima amica e, in un certo senso, stiamo lavorando insieme. Io sto scrivendo le musiche del film, ma ci scambiamo spunti e idee. Tu sei ambasciatrice dell'UNICEF e hai partecipato a molte iniziative umanitarie. È previsto un nuovo viaggio in Africa? Sì, stiamo ragionando con gli amici dell'UNICEF per mettere in piedi una nuova iniziativa. Dobbiamo solo capire qual è la destinazione più giusta in questo momento. Come viene recepita la musica italiana a New York, dove hai suonato invitata ad un festival? Benissimo! Se portiamo qualcosa che non c'è, più siamo autentici e legati al nostro territorio e più siamo apprezzati. Al contrario, se portiamo il rock senza nessuna contaminazione, non c'è confronto con chi lo ha inventato. D'altronde, se viene un americano da noi, non ci aspettiamo che suoni canzoni napoletane. E hai già in programma una nuova serie di concerti in America? Sì, tra qualche settimana. Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dialogo. Ascolterà un breve dialogo. Legga poi le affermazioni dal numero 48 al numero 53. Sentirà il dialogo una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione, quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora il dialogo una prima volta. Compiere 50 anni. Francesca parla col marito Paolo su come festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. Fra pochi giorni compio 50 anni. Tu sai che non amo particolarmente feste e cerimonie, ma mi piacerebbe festeggiare il mio primo mezzo secolo, regalandomi un breve viaggio ad Amsterdam insieme a te e a nostro figlio. Davvero? Ma tu sai che per me prendere dei giorni di ferie al lavoro è difficile e poi non è che abbiamo molti soldi extra. Verissimo! Però credo che posso riuscire a trovare un volo economico e la nostra amica Inge ha ripetuto mille volte che ci ospiterebbe volentieri. Ti prego, mi conosci. Mi sentirei in imbarazzo. Preferisco andare in albergo. Lei è molto gentile, ma io mi sento più libero in albergo. Va bene, provo a cercare una sistemazione carina ed economica. In Olanda ci sono tante possibilità. La gente è molto gentile, alla mano. Sei proprio decisa? Sì, mi piace l'idea di andare a trovare Inge, di prendere un aereo insieme a te e a nostro figlio al suo primo volo. Amsterdam, poi, è una città vivace, piena di cose da vedere e davvero particolare, tanto che la chiamano la Venezia del Nord. Ti ricordo, però, che dovremmo andarci prima che nostro figlio inizi la scuola ed anche prima della vendemmia. Tu lo sai che, quando inizia la vendemmia, io devo lavorare anche di sabato e domenica? Certo, non è un problema. Organizzo tutto io in pochi giorni. I miei fratelli hanno detto che, come regalo, pensano loro ai biglietti per l'aereo. Incredibile! Quando hai deciso una cosa, sei capace di realizzarla così in fretta. A volte provo un senso di vertigine per come sei veloce nelle cose che fai. Hai ragione. A volte, io invidio la tua calma e la pace che trasmetti quando fai le cose prendendoti tutto il tempo necessario. Sì, siamo diversi. Tu trasmetti pace e serenità e io gioia ed entusiasmo. Ed è per questo, forse, che ci siamo scelti. Adesso, legga le affermazioni. Grazie. 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 feste e cerimonie ma mi piacerebbe festeggiare il mio primo mezzo secolo regalandomi un breve viaggio ad amsterdam insieme a te e a nostro figlio davvero ma tu sai che per me prendere dei giorni di ferie al lavoro è difficile e poi non è che abbiamo molti soldi extra verissimo però credo che posso riuscire a trovare un volo economico e la nostra amica inghe ha ripetuto mille volte che ci ospiterebbe volentieri ti prego mi conosci mi sentirei in imbarazzo preferisco andare in albergo lei è molto gentile ma io mi sento più libero in albergo va bene provo a cercare una sistemazione carina ed economica in olanda ci sono tante possibilità la gente è molto gentile alla mano sei proprio decisa sì mi piace l'idea di andare a trovare inghe di prendere un aereo insieme a te e al nostro figlio al suo primo volo amsterdam poi è una città vivace piena di cose da vedere è davvero particolare tanto che la chiamano la venezia del nord ti ricordo però che dovremmo andarci prima che nostro figlio inizi la scuola ed anche prima della vendemmia tu lo sai che quando inizia la vendemmia io devo lavorare anche di sabato e domenica certo non è un problema organizzo tutto io in pochi giorni i miei fratelli hanno detto che come regalo pensano loro ai biglietti per l'aereo incredibile quando hai deciso una cosa sei capace di realizzarla così in fretta a volte provo un senso di vertigine per come sei veloce nelle cose che fai hai ragione a volte io invidio la tua calma e la pace che trasmetti quando fai le cose prendendoti tutto il tempo necessario sì siamo diversi tu trasmetti pace e serenità e io gioia ed entusiasmo ed è per questo forse che ci siamo scelti ora scelga fra le alternative a b c d quella che giudica più adatta segni le sue risposte sul modulo delle risposte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti conversazione ascolterà una breve conversazione in cui sono nominati diversi oggetti osservi poi gli oggetti ascolti la conversazione una seconda volta e scelga fra gli oggetti da a a v quelli che vengono nominati nella conversazione segni le sue risposte al numero 54 sul modulo delle risposte ascolti ora la la conversazione una prima volta l'inaugurazione giulia e benedetta organizzano un pranzo di natale per inaugurare l'appartamento dove vivono da poche settimane finalmente abbiamo finito c'è tutto che sollievo certo che senza l'aiuto dei numerosi parenti fratelli genitori zii eccetera eccetera non ce l'avremo mai fatta possiamo ringraziarli invitandoli tutti da noi per natale siamo una famiglia numerosa ma se ciascuno porta qualcosa ok noi mettiamo la casa il giardino dove fare una bella grigliata bicchieri e piatti rigorosamente di carta e l'albero di natale sotto il quale disporre regali l'albero può comprarlo il mio babbo alla copp sì i pacchetti devono aprirli tutti da noi sai che bello saranno un sacco però dobbiamo comprare le decorazioni per l'albero ciondoli luci fili d'argento e d'oro se pensi che sia una buona idea mia madre può fare una teglia di lasagne e mio fratello può pensare alle bottiglie di spumante ottimo invece la mia può preparare i vassoi degli antipasti lei non è molto forte in cucina e mio fratello che ha preso da lei una bella ciotola di insalata i babbi dovranno portare qualche sedia a casa dei miei genitori ce ne sono quattro pieghevoli possono prendere quelle ci mancano anche le forchette e i coltelli noi non abbiamo abbastanza per tutti chiederò di portare anche quelli a casa dei miei c'è un piccolo tavolo pieghevole di qual babbo di portare anche quello può servire come piano d'appoggio abbiamo dimenticato le tovaglie e i tovaglioli li facciamo portare alle mamme che hanno la mania dell'eleganza no saranno elegantissimi i tovaglioli e le tovaglie di carta coordinati ai bicchieri e ai piatti lasciamo invece decidere a loro per il vino e i dolci saranno così felici dell'invito che ci riempiranno di vini i panettoni i pandori allora possiamo fare gli inviti è bene dirlo con un po di anticipo così possiamo fare tutto con calma ma non scordiamoci le candele tua madre ne va matta adesso osservi gli oggetti disegnati grazie adesso ascolti la conversazione una seconda volta giulia e benedetta organizzano un pranzo di natale per inaugurare l'appartamento dove vivono da poche settimane finalmente abbiamo finito c'è tutto che sollievo certo che senza l'aiuto dei numerosi parenti fratelli genitori zii eccetera eccetera non ce l'avremmo mai fatta possiamo ringraziarli invitandoli tutti da noi per natale siamo una famiglia numerosa ma se ciascuno porta qualcosa ok noi mettiamo la casa il giardino dove fare una bella grigliata bicchieri e piatti rigorosamente di carta e l'albero di natale sotto il quale disporre i regali l'albero può comprarlo il mio babba la copp sì i pacchetti devono aprirli tutti da noi sai che bello saranno un sacco però dobbiamo comprare le decorazioni per l'albero ciondoli luci fili d'argento e d'oro se pensi che sia una buona idea mia madre può fare una teglia di lasagne e mio fratello può pensare alle bottiglie di spumante ottimo invece la mia può preparare i vassoi degli antipasti lei non è molto forte in cucina e mio fratello che ha preso da lei una bella ciotola di insalata i babbi dovranno portare qualche sedia a casa dei miei genitori ce ne sono quattro pieghevoli possono prendere quelle ci mancano anche le forchette e i coltelli noi non abbiamo abbastanza per tutti chiederò di portare anche quelli a casa dei miei c'è un piccolo tavolo pieghevole di qual babbo di portare anche quello può servire come piano d'appoggio abbiamo dimenticato le tovaglie e i tovaglioli li facciamo portare alle mamme che hanno la mania dell'eleganza no saranno elegantissimi i tovaglioli e le tovaglie di carta coordinati ai bicchieri e ai piatti lasciamo invece decidere a loro per il vino e i dolci saranno così felici dell'invito che ci riempiranno di vini i panettoni i pandori allora possiamo fare gli inviti è bene dirlo con un po di anticipo così possiamo fare tutto con calma ma non scordiamoci le candele tua madre ne va matta adesso segni gli oggetti al numero 54 del modulo delle risposte grazie a tutti 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 grazie a tutti